L'appalto è da capogiro, ma da capogiro sembrano essere anche le incongruenze. Tante, troppe, se in ballo c'è la bellezza di oltre 13 milioni e 400 mila euro, vale a dire 6 milioni e 700 mila euro per ogni tranche di otto mesi. Parliamo della guerra per il servizio mensa nella Asla di Lecce, destinata a provocare in ogni caso un terremoto, o sui conti dell'azienda sanitaria o nelle aule di tribunale. Siamo nella fase dell'affidamento, l'apertura delle buste c'è già stata, risale al 14 settembre scorso e ha riservato una sorpresa amarissima. Il prospetto sulla graduatoria che vedete qui è chiarissimo. Ad aggiudicarsi la gara dovrebbe essere il raggruppamento temporanea di imprese Gemeaz Cusina, consorzi a tavola Supernova e Brimmense, che stacca la seconda arrivata, la Innova S.p.A., già di 28 punti. Terzo il raggruppamento Compass Serico, quarta la Cascina, entrambe le ultime due già svolgono il servizio in alcuni nosocomi. Niente da dire, insomma, finché non si arriva alla nota dolente. Le offerte economiche. La prima classificata ne ha presentata una che è di 1.872.000 euro superiore rispetto alla seconda, cioè quasi 1.900.000 euro rispetto alla base d'asta. Avete capito bene? Oltre il 27% in più rispetto a quanto previsto dall'ASL. E questo lo precisiamo. Per un appalto che ha una durata limitatissima, otto mesi appena prorogabile, di altri otto mesi fino a nuova gara. Anche se, si sa, il regime delle proroghe qui sembra essere la regola e non l'eccezione. D'altronde questa gara dovrebbe servire a porre fine proprio a questo, attesa da 11 anni per armonizzare, con il mantenimento degli stessi livelli occupazionali, costi e qualità di un servizio svolto da attori diversi, con modalità diverse, in parti diverse. La Cascina, il Fazzi, Casarano, Gallipoli, Scorano e Maglie, la RR Puglia, San Cesario, Gagliano e Poggiardo, la Compass, nelle altre strutture. Ma com'è possibile arrivare a fargli evitare i costi del servizio in questo modo? Le incongruenze, dicevamo, stanno a monte, nei criteri individuati dal disciplinare tecnico. Una sproporzione difficile da giustificare tra costi e qualità. Appena 20 punti per i secondi, 80 per la prima. Tradotto significa che l'offerta economica non è quasi per niente tenuta in conto e questo porta in automatico a poter far formulare prezzi molto, molto più alti rispetto alla base d'asta. Ad avere maggiore peso è dunque la qualità del servizio. Sì, ma qualità? Da quale punto di vista? Eccola la sproporzione nella sproporzione. Ben 10 punti vengono assegnati per l'offerta a prodotti provenienti da terreni confiscati alla criminalità. Altri 10 punti per l'offerta a prodotti a rischio estinzione, dopo i GP tipici e tradizionali. Altri ben 10 punti ancora per offerta a prodotti biologici. Tutti non da fornire sempre al degente, ma per un pasto al mese. Di certo, non tali dunque, da incidere sulla qualità vera della giornata alimentare. In secondo piano, addirittura a massimo dei punti assegnati corrispondenti alla metà, i criteri sulla preparazione e produzione dei pasti, confezionamento dei vassoi personalizzati, pulizia cucina e trasporto e consegne al letto del degente. A sottolineare lo squilibrio è anche un sindacato, la CISAL. Non capiamo come si potrebbe giudicare una gara d'appalto in quelle condizioni, che sono previsti quasi 19,60 euro, senza una ristrutturazione, e qua mi riferisco in specificato modo nell'ospedale Vitofazzi, dove c'è una cucina che è dal 2000 che non si fa manutenzione straordinaria nei confronti di quella struttura. Allora, poteva essere comprensibile una gara di 2 milioni di euro in più, qualora ci sia un investimento. Dubbi macroscopici, insomma, ma che pure hanno superato il vaglio di legittimità del nucleo di verifica dell'Ares e dell'Agenzia regionale. Come sia possibile, resta un mistero. Ma a guardare bene, spulciando delibera e sito internet, notiamo un altro pesantissimo paradosso. Per un appalto di ben 13 milioni e 400 mila euro, non troviamo nessun bando pubblico relativo al servizio Mensa. Semplicemente non esiste. Esiste solo una delibera del 7 ottobre 2010 dell'allora direttore generale Guido Scoditti, in cui si fa riferimento ad una gara mediante procedura negoziata. Cioè, per un appalto a 6-0, non c'è stato nessun avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale Stampa, ma una trattativa privata. Un invito rivolto ad un numero limitato di aziende, 4 quelle che hanno partecipato. Ma c'erano le condizioni di estrema urgenza e di eccezionalità per ricorrere a questa procedura? Anche a questo interrogativo dovrà rispondere il nuovo direttore generale dell'ASL, Mellone, che dovrà scegliere proprio in questi giorni se aggiudicare l'appalto con il ricorso inevitabile degli esclusi o se comunque con il ricorso inevitabile della prima classificata salvaguardare le casse già dissanguate della sanità pubblica.